Questi erano persone intellettuali di formazione fondamentalmente umanistica, con zero conoscenza del mondo del business, nessuna conoscenza dei cambiamenti tecnologici in corso e su questo non erano solo quelli di sinistra, tutta l'Italia non capiva che quella che diventerà Silicon Valley questi stavano facendo Windows, Macintosh e così via. Non avevamo la più vaga alba del 74 che stava accadendo e si straparlava fondamentalmente pensando di avere in mente come aggiustare il paese. Succede una cosa banale che noi non siamo in grado di accettare e cioè l'aumento di due costi fondamentali un po' in tutto il mondo occidentale ma in Italia in particolare per le ragioni che abbiamo detto e cioè il costo del petrolio e quindi le fondi energetiche che aumenta per tutti drammaticamente e del lavoro che aumenta un po' dappertutto perché lotte sindacali forti ci sono anche in Francia, in Germania ma non tanto come in Italia. Quindi in Italia la crescita del salario reale relativa è molto maggiore. Ha bisogno di una risposta tecnologica se vuoi mantenere immagini. Questa risposta tecnologica in alcuni paesi viene data e fra di essi c'è il computer, in altri paesi non viene data o viene data pochissimo. In Italia viene data meno di tutti. Perché? Perché ci si infila lo Stato che dice no no le teniamo su in piedi queste aziende decotte ormai perché i loro input fondamentali petrolio e lavoro costano troppo. E questo ritarda ogni risposta non di cinque anni. La ritarda sempre in un certo senso perché l'unica roba che succede è, ma questa è storia degli anni seguenti, che comincia a profilarsi in questi anni di cui stiamo parlando in 62-65 ma avviene tutto dopo, queste aziende non vengono modificate e migliorate. No, spariscono per morte. Quando proprio non ce la fai più a tenerle in piedi chiudono. Ma è lo sforzo di cambiamento. E noi tutta questa roba, noi 17 anni non è che dovessimo capirlo, ma i Barca e i vari Napoleoni, no non lo capiscono. Il dibattito a sinistra è tutto sul salario variabile indipendente e sulla cosa che ha appena detto Adriano. Il padrone ha una specie di comitato mondiale in cui si riuniscono. E guardate che tutte le varie teorie sui rettiliani sono nient'altro che la visione paleomarxista del tempo, 50 anni dopo, che esiste una specie di comitato mondiale dei padroni che si riunisce e elabora strategie di risposta alla cosiddetta lotta operai. Totale folia. L'Europa complessivamente non reagisce con la stessa elasticità americana, quello che l'America invece fa, superato lo shock Vietnam, la seconda metà degli anni 70 e di grandissima innovazione, che poi è di riaggiustamento. Tant'è che, per esempio, la decisione, il là, ha la decisione di dire basta con le politiche monetarie adattive, basta con le politiche monetarie che accomodano e continuano a creare inflazione, basta con queste idee a folle che creiamo un po' di inflazione e usciamo dalla stagnazione con, eh, la danno gli americani. E la dà sotto il governo di Carter, eh, Folker, che non è messo lì da Reagan. Poi Reagan ovviamente lo appoggia, ma la dà Folker e da lì poi gli europei seguono i tedeschi per primi, contentissimi, terrorizzati all'inflazione, gli italiani per ultimi e gli altri via via in mezzo. Ah, ecco, c'è uno spettro di di eventi. L'Inghilterra cambia rapidamente sotto Thatcher, spunta su Londra, il finanziario, eccetera. I paesi scandinavi arrivano dopo, però arrivano. La Svezia arriva a buon ultimo nel 94, ma la Svezia nel 94 fa delle riforme drammatiche, poi voi vi guardate il tasso di crescita svedese dal 94 in avanti e scoprite che è un altro pianeta da noi, tant'è che la distanza fra noi e loro in termini di reddito in questi quasi trent'anni è aumentata enormemente. L'Irlanda lo fa nell'85, cioè non è che tutti fanno le cose, l'Italia no. L'Italia praticamente rimanda a tuttora, quindi noi siamo proprio il re. Ecco, i tedeschi fanno due botte, reagiscono in qualche maniera negli anni Ottanta, poi hanno la grande botta dell'arrivo, erano 20 milioni circa, 18 milioni di tedeschi dell'Est, passano dieci anni di grande crisi, diversa ovviamente, poi tornano nel 2003 e reagiscono. Quindi è vero quello che dite, cioè un po' tutta l'Europa che tarda e si vede ancora, no?